Secondo me il valore di stelle dello sport è un grandissimo valore, quello di ridare risalto a tutti gli atleti indipendentemente da qualsiasi disciplina essi vengano, sia che essi vengano da uno sport come può essere per esempio il calcio, che è uno sport in un certo senso di serie A, anche se secondo me non esiste uno sport di serie A, sia di dare risalto anche a sport che erroneamente vengono definiti come minori, come possono essere tutti gli sport paralimpici purtroppo. Che emozione è stata per te a giugno arrivare davanti a tanti campioni della nostra regione? È stata una grandissima emozione anche perché comunque, sì, altre volte sono stato insignito di questo titolo, però ogni volta comunque è una grande emozione perché ogni anno c'è sempre qualcuno di nuovo ed è sempre difficile riuscire a guadagnare la stima del pubblico e delle persone che mi votano. Sempre più campioni nelle discipline paralimpiche, anche junior under 18, pensiamo per esempio due anni fa Matteo Orsi, si impongono a stelle nello sport? Sì, diciamo che per fortuna il movimento paralimpico Ligure che fino a qualche anno fa era un movimento ancora poco sviluppato, sta crescendo e continuerà, si spera, a crescere. E Maquaglia si ricorda ancora della sua premiazione a stelle nello sport? Ma sì, questo premio ha un valore molto personale per me perché ero un poco più che una ragazzina quando sono stata premiata per la prima volta e poi direi un paio d'anni fa sono stata premiata con Mattia Perin, il mio portiere del cuore e quindi insomma passano gli anni e continuo a esserci per cui non può che essere un piacere. Vuol dire anche che stelle nello sport porta bene insomma perché ti abbiamo premiata da ragazzina e poi hai tenuto risultati di eccellenza? Ma sì, direi di sì, ho avuto una carriera molto fortunata, mi sono divertita molto, ho ancora voglia di divertirmi quindi se mi portate ancora un po' di fortuna io vado avanti. Aprile Vino, sei stato uno dei testimonial quest'anno degli incontri in una classe di valore, ci racconti che esperienza è stata? Una classe di valore è un evento a cui ci tengo sempre a partecipare perché permette di parlare ai ragazzi delle cose che io ho vissuto per vent'anni e che ho molto nel cuore di trasferire ai giovani. Sei stato premiato da stelle nello sport nel 2009, atleta junior dell'anno in una sala maestrale gremita, cosa ricordi di quel momento? È stato un momento bellissimo perché è un momento in cui uno riceve anche un riconoscimento dalla città di tutti i risultati e gli sforzi che uno fa per progredire nella carriera e poi mi ricordo che mi ha premiato Carozzo e questo per me è stato molto importante.